ben trovati amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 5 agosto 2024 iniziamo insieme una nuova settimana è un po un tempo di ferie un tempo di riposo comunque ci sono ancora coloro che lavorano ma ci sono molti che sono in vacanza noi diamo il benvenuto a tutti i turisti che soggiornano nella nostra riviera e dobbiamo dire che ieri erano presenti in massa specialmente a fano dove si è celebrata la festa del mare ma vediamo poi quello che è accaduto sui giornali ma prima passiamo attraverso l'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi eccolo l'almanacco si festeggia santa maria della neve è più che un santo maria ovviamente si festeggia in mille modi diciamo è un episodio pensate nel quarto secolo sotto il pontificato di papa liberio un nobele patrizio si chiamava giovanni non avendo figli pensò di utilizzare il suo ingente patrimonio costruendo una grande basilica in onore della madonna di cui era molto devoto e in sogno apprese che il luogo dove avrebbe potuto costruire dove avrebbe potuto fare questa impresa era uno dei colli di roma uno dei sette colli di roma dove sarebbe caduta la neve era un mese estivo e quindi la neve era molto improbabile che cadesse in realtà quella notte la neve cadde sull'esquilinio e proprio lì fu costruita la grande basilica una delle maggiori basiliche romane una delle quattro basiliche romane insomma che sono preeminenti quella di santa maria maggiore e santa maria maggiore è una chiesa una basilica veramente uno scrigno di opere d'arte ha dei mosaici stupendi che così fanno una teoria della storia biblica su tutta su tutte le pareti laterali poi abbiamo anche nelle sue ristrutturazioni e un soffitto dorato fatto con il primo oro proveniente dall'america e poi costudisce pensate anche la culla di gesù bambino una reliquia che i crociati portarono da gerusalemme nel medioevo insomma una basilica veramente grande come quella della terano come quella del vaticano come quella di san paolo fuori le mura ed ora passiamo alle previsioni del tempo e dopo il breve temporale di sabato è tornato il sole condizioni di stabilità anche oggi cielo sereno o velato tutto al più per l'intera giornata il clima è asciutto massime fino a 32 e 34 gradi la minima si è testata a 21 gradi i venti sulle coste spireranno da est mentre nell'entroterra da est e sud est il mare è calmo il sole è sorto alle 5 e 59 e tramonterà alle 20 e 27 questo per quanto riguarda il quadro della giornata che ci apprestiamo a vivere e per quanto riguarda le notizie di ieri ne vediamo insunto sulla prima pagina del resto delle carlino della nostra regione marche nella zona di pesaro zona mare si cambia ex bussola demolito e sarà un autunno di cantieri sono cantieri che poi vengono anche fomentati dalla famiglia berloni cos che costruirà al suo posto degli appartamenti lo sporting invece sarà trasformato in un condotel l'inchiesta del comune sulle associazioni che hanno avuto soldi facili senza passare attraverso un bando e quindi un'assegnazione dei contributi soldi facili appalti il regolamento fu ignorato ed è un regolamento che lo stesso comune si era dato quindi il comune in questo caso avrebbe derogato a se stesso a fano nuovi nuovi saldi nuovi asfalti scusate in superstrada operai fermi per ferragosto perché ferragosto è un periodo molto molto caldo in codice rosso per quanto riguarda l'affluenza del traffico vediamo anche la provincia di ancona eccola qua a sirolo fino ad agosto stop la musica dopo luna nei locali del centro per permettere ai residenti di condurre una buona vacanza a osimo la cultura in lutto addio alla professoressa maria antonietta canapa e poi c'è la visita di alessandro siani che porta il sorriso ai piccoli del salesi pronto soccorso troppi accessi a torrette pazienti spostati in altri ospedali ad ascoli primeggia la quintana la vittoria è stata ottenuta da porta solestà la giostra decisa l'ultima tornata ed esplode la festa giallo blu coppari sbaglia porta romana e seconda poi la piazzarola cavalcata dell'assunta svelati dieci cavalieri le scuderie stasera il tiro il tiro per la store a porto sant'elpidio droga clan nel merino condanne per quattro anni vediamo anche la provincia di macerata lavori i capucini vogliamo finire prima di natale dice appunto uno dei frati a monte san giusto si sono avuti tre incendi dolosi in due giorni ma il piromane è stato preso aveva già anche dei precedenti per lo stesso crimine a civita nova paura sulle lungomare uno scooter c'entra un palo un ragazzino ferito e allora detto un po la panoramica regionale apriamo il giornale e vediamo l'approfondimento sulla pagina di pesaro e vediamo l'inchiesta per quanto riguarda le regole violate all'interno dell'amministrazione comunale per quanto riguarda le opere per quanto riguarda le associazioni opera maestra e stella porale e stella polare che hanno ricevuto dei contributi dall'amministrazione comunale per oltre mezzo milione di euro senza passare attraverso nessun bando nessun concorso vediamo qual è il retroscena non tutte le regole vengono imposte dall'alto alcune regole vengono date dal comune a se stesso e quindi sarebbe obbligato a rispettarle in realtà così sembra non sia stato nella storia degli affidamenti allegri alle associazioni opera maestra e stella polare anche questo aspetto riveste una importanza centrale la domanda a cui il giornale cerca di rispondere è questa come è possibile che delle associazioni culturali no profit senza durc senza dipendenti senza iscrizione inps o inail nella camera di commercio nel run se che sarebbe il registro unico nazionale del terzo settore possano non solo competere ma addirittura avere la meglio nell'affidamento di incarichi pubblici con altre realtà imprenditoriali che invece tutte queste tutte queste manovre tutte queste i obblighi di legge hanno rispettato insomma di là c'è una imposizione per seguire delle certe regole qua invece c'era la libertà ebbene è stata privilegiata la libertà invece di chi si è comportato correttamente questo è un po è quello che evidenzia il carlino questa mattina e poi vediamo un nuovo lutto purtroppo di questa estate per le vacanze al mare malore mortale per un turista 74 anni due poi i salvataggi una turista è una donna una turista di 74 anni proveniente dalla toscana ha avuto un malore in acqua intorno alle 11 di ieri mattina all'altezza dei bagni Ciro ebbene è stato subito soccorsa dai bagnini l'hanno riportata a riva ma i tentativi di salvarlo nonostante che sono stati ripetuti per tanto tempo sono caduti nel vuoto il cuore non ha non non batteva più e non è riuscito a ribattere sul posto è intervenuta anche la capitaneria di porto che poi intervenuta con una moto motovedetta per cercare anche un diportista disperso nel tratto di mare antistante il monte san bartolo dopo qualche minuto il naufrago è stato recuperato infine un altro salvataggio da parte della guardia costiera che ha soccorso una famiglia di tre persone che per una avaria alla propria imbarcazione aveva era spiaggiata in una zona isolata antistante la falesia del san bartolo anche questa è stata soccorsa e quindi riportata in porto autunno di lavori in zona mare l'ex bussola diventa un condominio abbiamo visto appunto nella sintesi della prima pagina pubblicata dal resto del carlino si tratta di un'impresa della famiglia berloni che la cui capacità ricettiva andrà sull'international in viale cesare battisti che fa sempre capo alla silver fox che è l'azienda della famiglia berloni siamo vicini alla svolta anche per un rudere lo sporting diventerà presto un condotel e l'ex hotel bussola sta per essere abbattuto 56 posti letto saranno trasferiti all'hotel international che va abbattuto e poi rifatto insomma sono molto in moto queste variazioni per quanto riguarda il sistema ricettivo pesarese che si dimostra più dinamico più attivo rispetto a quello fanese paura in spiaggia partoriente con le doglie viene soccorsa sotto l'ombrellone questo è accaduto a fano ai bagni 5 tra gimarra e fosso sei ore nella giornata di ieri ebbene una donna incinta prossima al parto era tra l'ottavo e il nove e nono mese a un certo punto è stata accolta dalle doglie insomma è stato chiamato subito il 118 per portare assistenza a questa donna che poteva partorire addirittura in spiaggia sotto l'ombrellone ebbene si è precipitata sul posto un'autoambulanza e poi da via mare c'è stata anche un'idroambulanza ovvero una barca tipo ambulanza che si chiama Nettuno che si chiama Nettuno comunque la donna è stata portata subito nel reparto di ostetricia dell'ospedale Santa Croce ed è stata assistita ora gli infermieri i dottori non hanno riferito se poi se la donna ha partorito o meno questo rimane un po nella privacy di questa signora però insomma quel quanto è avvenuto ha creato delle emozioni per tutti coloro soprattutto anche per la donna per tutti coloro che frequentavano la spiaggia nuovi assalti in superstrada nuove asfalti in superstrada tra serrungarina e bellocchi stop ai lavori a ferragosto è decollato dunque un nuovo lotto di lavori per un importo di 2 milioni di euro sulla superstrada fanno grosseto ebbene li ha annunciati questi lavori francesco baldelli che è assessore regionale alle infrastrutture il quale ha evidenziato che i lavori coinvolgeranno un tratto di superstrada di 4 chilometri da serrungarina a fanno si tratta di opere e manutenzioni straordinarie che seguono un calendario concordato con l'anas e le associazioni di categoria convocate recentemente in regione per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione durante il periodo estivo in modo particolare nei weekend il tratto di strada della superstrada fanno grosseto si riempie di traffico perché finalmente anche i turisti umbri sono tornati nella nostra provincia e quindi il sabato per quanto riguarda l'arrivo e la domenica per quanto riguarda il ritorno veramente questa arteria è molto densa densa di traffico ebbene abbiamo visto il resto del carlino ora passiamo al corriere adriatico vediamo l'apertura a sufano dedicata tutta alla festa del mare la festa del mare ritrova la passione soprattutto ritrova la passione dei pescatori passione che negli ultimi tempi si era un po' intiepidita diciamo così aveva prevalso l'aspetto turistico l'aspetto mondano della manifestazione invece che l'aspetto tra il religioso e l'intimo che era tipico di questa festa per i pescatori i pescatori che in questa occasione si riunivano celebravano i loro riti per quanto riguarda il ricordo di coloro che erano periti in mare per questa eterna lotta tra coloro che trovano il sostentamento nelle acque e invece la furia degli elementi che qualche volta diciamo così non tanto di rado ha la preminenza appunto su coloro che sfidano la forza del mare la festa del mare ritrova la sua passione il sindaco riqualificheremo il porto. Il sindaco Luca Serfilippi è stato presente ieri mattina a tutte le cerimonie che si sono svolte per ricordare i caduti in mare a partire dalla deposizione di una corona dall'oro al monumento alla tempesta nel molo di Ponente dove si ricorda la tragedia che è avvenuta l'8 giugno del 1964 quando quattro marinai fanesi non fecero ritorno al porto morirono tra le onde fu una tempesta eccezionale che prese l'avvio dal golfo di Trieste e poi con la Tramentana sconvolse tutto l'Adriatico e sconvolse anche le coste di Fano. Due pescherecci affondarono e quattro uomini non tornarono più alle loro famiglie. Una giornata comunque ricca di eventi quella di ieri dalle 5.30 quando c'è stato un concerto sulla spiaggia dell'Arzilla al sorgere del sole fino alle 23.30 quando poi in Sassonia la giornata si è conclusa con un mirabolante spettacolo di fuochi artificiali e nel mezzo, nel mezzo tante cerimonie religiose, la cerimonia tipica della deposizione della corona dall'oro in mare con una corona di imbarcazioni che hanno suonato le loro sirene e poi la messa con il vescovo appunto davanti al monumento dei caduti e poi ancora musica gradellate di pesce, mercatini, questo bellissimo spettacolo delle vongolari che con le loro pompe hanno soffiato getti d'acqua altissimi in aria una delle novità di questa festa e poi non dobbiamo dimenticare assolutamente la notata longa, ecco qua l'articolo che riguarda questa iniziativa giunta alla 51esima edizione, un'iniziativa organizzata dalla società di nuoto fanno un fortune presieduto da Giorgio Ricci pur essendo giunta alla sua 51esima edizione la notata longa non finisce mai di stupire sia per l'agonismo che la caratterizza sia per lo spettacolo che tra il colore delle calotte che appaiono e scompaiono tra i flutti tra le bracciate che sollevano schizzi di spuma il gruppo di concorrenti che si addensa e poi piano piano si diluisce, piano piano che si arriva verso il traguardo ebbene è uno spettacolo che il palcoscenico naturale tra l'Arzilla e il molo diponente del porto di Fano dà a tutti coloro che sono sulla spiaggia del Lido veramente è uno spettacolo eccezionale allora vediamo chi ha vinto ieri ieri ha vinto Nicolas Bombini Nicolas Bombini che è un atleta un atleta anconetano vediamo poi gli altri concorrenti che sono giunti in buona posizione Nicolas Bombini appartiene alla vela nuoto di Ancona è seguito da Alessio Spelonchi della Polisportiva Garden di Rimini e al terzo posto Filippo Cocco della Polisportiva Comunale di Riccione ebbene dobbiamo dire anche che al quarto posto si è classificato Mattia Angius 15 anni della Fanunfortune nuoto ebbene Mattia era stato ritenuto vincente di tutta la notata longa in un primo momento ma poi i giudici di gara insomma hanno ricalcolato i tempi e purtroppo l'hanno posto in quarta posizione comunque la sua voglia di vincere la sua gioventù il suo entusiasmo fanno ben sperare per il futuro di questo atleta che può competere benissimo alla pari con dei nuotatori molto più esperti e per quanto alle donne la prima arrivata è Erika Tomassini di Pesaro Erika Tomassini fa parte dello Sport Village di Pesaro in totale i concorrenti sono stati 236 di cui 82 le donne e l'altra notizia che riguarda insomma il weekend nasce da una polemica l'amministrazione comunale nei giorni scorsi ha evidenziato il loro giudizio il loro progetto per quanto riguarda il ripristino dei parcheggi in Viale Dante Alighieri in Sassonia era una delle richieste più sentite da parte degli operatori che gravitano in quella zona e si è cercato di raggiungere un equilibrio tra quello che volevano i residenti e quello che volevano gli operatori insomma ripristinare un po' di parcheggi che erano stati eliminati ebbene il progetto presentato dalla Giunta propone la realizzazione di 14-15 parcheggi tra gli alberi però qualche albero deve essere abbattuto e questo ha suscitato le rimostranze dell'associazione ambientalista Lupus in Fabola la quale contesta la gestione del verde condotta anche da questa Giunta siamo alle solite ha detto Lupus in Fabola la vecchia Giunta sacrificava gli alberi per realizzare opere di interesse pubblico e così fa la nuova Giunta e insomma ovviamente gli ambientalisti si schierano dalla parte degli alberi mentre poi ci sono i cittadini che vogliono i parcheggi vogliono le piste ciclabili insomma vogliono una viabilità più sicura più protetta e più disponibile alle esigenze appunto delle strade che corrono lungo le loro abitazioni una iniziativa della combattente si inaugura oggi alle ore 17 si tratta di un campo da pickleball pronto alla combattente lo vediamo qui in questo articolo di spalla e lo vediamo qui anche in questa fotografia si estende dunque il ventaglio delle opere e degli interessi della combattente non solo un'associazione che si occupa di bocce ma anche un'associazione che si occupa di scacchi di biliardo e ora anche da pickleball suggerito dalla volontà di intercettare la schiera di appassionati di uno sport che sta alimentando un importante un crescente interesse anche nel nostro paese quindi veramente questa denominazione di polisportiva trova sempre più la concretezza negli obiettivi perseguiti dalla combattente a fondo pagina vediamo la notizia della donna incinta soccorsa in mare soccorsa via mare anzi era nella spiaggia a Baia del Re poco dopo di Gimarra tra busto e preoccupazione per soccorrerla comunque sembra che tutto sia andato bene sia che il bambino sia nato sia che non sia nato a Mondolfo una operazione sacrilega è stata fatta dai soliti ignoti la madonna delle grotte è stata violata sdegnati da questa avidità ha dichiarato il rettore del santuario don Emanuele al via le pratiche per il restauro questa madonnina che risale al 1600 è stata gettata a terra rovinata ne sono state sottratte due collanine insomma qual è la reazione? è quella di disgusto, sconcerto, rabbia rassegnazione, preghiera tutto questo è veramente un mix di sentimenti che si respira a Mondolfo dopo il grave gesto sacriligo occorso al noto santuario della madonna delle grotte nella giornata di sabato ora si spera che gli inquirenti riescano a rintracciare i malviventi che insomma non solo hanno compiuto un atto contro le leggi che è quella del furto ma anche contro la morale contro i sentimenti della popolazione questo è veramente quello che fa più male giriamo la pagina e andiamo a Senigallia dove vediamo un lutto purtroppo è deceduta una coppia nel corso di un incidente stradale che si è verificato sull'A14 e dell'A14 vediamo dove insomma non dalle nostre parti è successo vediamo un attimo su nel tratto tra Bologna e Rimini ecco è successo a Imola è successo a Imola dove la loro auto si tratta di Rita Marcheselli e del marito Giancarlo Briganti che sono deceduti la loro auto è rimasta schiacciata tra due tir a causa di un tamponamento e purtroppo per loro non c'è stato nulla da fare erano entrambi psicologi avevano 80 anni e vivevano a Forlì ma la famiglia Marcheselli è molto nota appunto a Senigallia dove era dove la famiglia si era trasferita pugni e pistola contro il barista quattro i tempisti sono stati identificati ed è una delle solite ormai aggressioni che capitano appunto nel nostro litorale Senigallia è uno dei punti dove un po' questi incidenti si ripetono costantemente comunque sono stati identificati dai carabinieri quattro tempisti che venerdì hanno messo a suo quadro un bar a Casine di Ostra aggredendo sia il titolare che un cliente in particolare al vaglio la posizione di due di loro che hanno malmenato l'esercente mentre gli altri stavano a guardare insomma veramente sono cose dell'altro mondo e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi come sempre appuntamento alle 7 di domani intanto vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata a